Presidio ospedaliero Valeditria Martina Franca, questa mattina vi è stato un sopralluogo da parte dell'onorevole sottosegretario al Ministero della Salute, Marcello Gemmato. È di tutta evidenza che c'è un buco nel sistema sanitario regionale pugliese che va curato. Dietro invito della consigliera comunale di Martina Franca, Grazia Lillo, e dell'intero coordinamento cittadino Fratelli d'Italia. Noi ci stiamo occupando ormai da tanto tempo dell'ospedale di Martina Franca. Io avevo promesso, a parte naturalmente la convocazione del Consiglio monotematico, di interessare in prima persona il Governo centrale. Questa visita del sottosegretario ne è naturalmente la dimostrazione. L'obiettivo è quello di attenzionare questa situazione di continua emergenza che non dovrebbe essere tale, dovrebbe essere un'eccezionalità, ma che sta portando l'intero personale medico-infermieristico a lavorare costantemente sotto stress. All'incontro presenti i dirigenti, i medici e il dottor Colacicco, direttore generale di ASL Taranto. Noi finora abbiamo fatto tanti concorsi, però poi alla fine veniva fuori una graduatoria. Nel momento in cui facevamo le assegnazioni, siccome per alcune discipline ci sono pochi medici, hanno la possibilità di scegliere dove andare. Quindi nel momento in cui la disposizione di servizio era per un posto che per loro, per la qualità di vita, per la logistica, era di difficile gestione come vita, rinunciavano. Allora abbiamo fatto degli avvisi pubblici ad hoc. Abbiamo fatto l'avviso pubblico, per esempio, per la cardiologia, per Martina Franca e uno per Manduria, proprio per far sì che chi sceglie quel posto sa che deve andare in quel posto. Hanno partecipato gli specializzanti, dieci per Martina, otto per Manduria. La sorpresa quale sta? Che siccome è subordinata questa, perché noi possiamo prendere, in base al decreto Calabria, possiamo assumere anche dal terzo anno della specializzazione. E devono dare però l'assenso i direttori delle cattedre dove stanno facendo la specializzazione. Ai ragazzi che dovevano venire qua non è stato dato l'assenso. Sicuramente io non è che voglio criticare la scelta, perché evidentemente il direttore della struttura magari si può anche preoccupare di quello che può essere il tipo di esperienze, di bagaglio nel ventaglio. Però anche rispetto a questo io mi sono impegnato e quindi ho parlato con il direttore generale degli ospedali riuniti di Foggia. Ho detto noi faremo in questo modo, se i ragazzi vorranno accettare. Siccome al Santissimo Annunziato si fanno le procedure, gli stendo, comunque si gestiscono quei casi un po' più complessi o comunque di secondo livello, noi faremo ruotare questi ragazzi e però alla fine... Ma come mai non è stato dato questo assenso? Ma ripeto, la preoccupazione del direttore è che i ragazzi si appiattissero rispetto a quello che loro invece vorrebbero dare. Almeno questa è stata la scusa. L'ospedale di Martina, da quando il DM70 in qualche maniera ha ristrutturato tutta la rete ospedaliera, essendo diventato comunque ospedale di primo livello, è un ospedale che è sotto stress in maniera continuativa e come è sotto stress l'ospedale, naturalmente fondamentalmente sono sotto stress e sotto stress il personale medico e il personale infermieristico. È lì che dovremmo cercare comunque di intervenire, attraverso naturalmente, per l'amor di Dio, queste idee sicuramente importanti sulle quali andremo a lavorare. Ma fondamentalmente dobbiamo evitare di continuare ad avere sprechi nella sanità, perché c'è danaro che dal nostro punto di vista è stato utilizzato in malo modo. Di tutta evidenza che una sanità pugliese lo sbando e che ha nel buco in sanità, siamo primi in Italia, lo ripeto, l'epifenomeno che ci racconta di questa mancanza di capacità di gestione. Onorevole, in pratica in Puglia abbiamo una sanità da curare, come possiamo poi non far gravare questa cosa sui malati, sui pazienti? Ora, è evidente lo stato comatoso dello stato della sanità pugliese. È evidente anche il forte impatto che la gestione scriteriata da parte di Michele Emiliano, del centro-sinistra, che da 20 anni governa la regione Puglia, ha nei confronti appunto del sistema sanitario regionale. I cittadini che vogliono oggi accedere alle prestazioni minimali, quelle diagnostiche o quelle chiaramente di interventi anche programmati, si vedono rimbalzare a tre mesi, a sei mesi, a un anno, anche in tema di oncologia. Da un lato c'è questo, dall'altro c'è un buco enorme, 204 milioni di euro della sanità pugliese, che ci porta ad essere i primi per debito in Italia. La soluzione? La soluzione è quella da parte governativa di dotare maggiormente il Fondo Sanitario Nazionale e quindi conseguentemente il Fondo Sanitario Regionale. Competenza 2022 rispetto alla 2021, insieme ai maggiori fondi del Payback, la regione ha avuto mezzo miliardo in più, quindi abbiamo dato una dotazione economica importante. Purtroppo, nonostante questa iniezione economica, la regione non riesce a gestire il momento sanitario. Lei mi dice la soluzione. La soluzione in democrazia sono le elezioni. Ora parlo non più da sottosegretario di Stato, ma esponente del maggiore partito Fratelli d'Italia, di governo italiano e al valio elettorale che si giudicano le proposizioni politiche, la soluzione è quella in mano agli elettori. Lei è il dottor? Io sono il dottor Argesi, il dirigente delle professioni sanitarie di questo presidio e del territorio del distretto 5. Questa è la futura rianimazione dell'Asia Taranto per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Martina. Dicevo che è una struttura bellissima, ovviamente noi ci auguriamo che la gente non abbia necessità, però purtroppo succede, quindi è fondamentale per questo territorio averlo. Quindi le risorse umane sono la cosa più importante, non solo medici, ma tutto il personale infermieristico e quant'altro, per attivare questo reparto? Sicuramente sì, è fondamentale che la struttura, diciamo che ormai ha la linea del traguardo, ma quello che manca è proprio la risorsa umana, quindi partendo dai medici, agli infermieri, agli os, agli ausiliari, quindi quando si parla di organico, di team, che è fondamentale per poter portare avanti una struttura, diciamo che quella va ancora individuata ed è il grande problema. Quindi noi ci auguriamo che questo possa accadere quanto prima e quindi poter dare un ulteriore servizio. Quando potrà essere attivo questo reparto? Ah, questo mi fa una domanda che sinceramente faccio fatica a risponderle. C'è il problema dell'Italia, qua abbiamo il problema dell'Irba che si può prenderla in discorso ambientale, il problema del San Cataldo che si è concentrato negli ultimi dieci anni a pensare solo al San Cataldo, ma non si è pensato poi, c'è, ma che avviene il San Cataldo? Se avviene il San Cataldo, prima di 3-4 anni non sarà pronto, e qua si è nel pallone di torno. Però Renato, lo sai bene, il mio motto è a Taradona ci può morire aspettando il San Cataldo. E che cosa succede? Quindi abbiamo fatto anche una politica di prima aspettando il San Cataldo. Oggi insieme al coordinatore di Martina Franca, grazie a Lillo e al partito di Martina Franca, abbiamo invitato il sottosegretario Gemmato per fargli fare un giro all'ospedale di Martina. Abbiamo fatto rendere conto le condizioni di come sta. Questo è sempre per colpa che in questi anni, negli ultimi dieci anni, si è pensato soltanto a costruire il nuovo San Cataldo, depotenziando questi ospedali. E non si può, la salute non può aspettare un ospedale in attesa di essere curato. La salute ha bisogno di risposte immediate e quelle che cercheremo di dare in questi mesi.